Il libro ci riporta indietro nel tempo, ci fa vivere realmente i monumenti. Quindi grazie al professore De Marco che ha deciso di regalarci questa perla. Io sono veramente contenta questa sera di essere qui e di aver ascoltato dalle parole del professore De Marco, da quella della senatrice Polibortone e da quanto veramente c'è scritto e poi quanto i nostri monumenti. Il professore De Marco durante l'intervista ha rimarcato l'importanza delle epigrafi dei nostri monumenti e questo ci fa veramente piacere perché può essere colto un segnale, quello che la cultura è una cultura turistica basata sul può essere veramente importante. La pubblicazione è veramente molto molto interessante perché è la storia vera della città. La storia della città attraverso diversi ordini monastici, per esempio tantissimi. Io stessa non sapevo che ci fossero stati tanti ordini qui nella nostra città. Non sapevo che ci fossero state anche tante famiglie nobiliari che si erano molto prodigate anche per venire incontro a delle esigenze del momento, diciamo così. Non sapevo che in date più recenti un importante artista leccese che era un massone dichiarato avesse invece dato del danaro per la costruzione di una chiesa, per ricordare il figlio. Insomma non sapevo tante cose che ho scoperto attraverso questo bel libro di Mario De Marco che non è la traduzione delle iscrizioni latine ma è attraverso le iscrizioni latine e quindi attraverso la traduzione e interpretazione stessa è la storia della nostra città. Una storia civile, una storia sociale, una storia religiosa che dovremmo conoscere perché essere consapevoli della propria identità secondo me è un fatto importantissimo specialmente in questo momento in cui parliamo tanto di multiculturalismo e c'è chi ha paura di confrontarsi con gli altri. Il confronto con l'altro lo puoi fare quando sei forte, quando conosci bene la tua storia e ti senti assolutamente padrone della tua identità. Io penso che ciascuno di noi deve conoscere a fondo la città nella quale vuol fare politica culturale perché così come è accaduto purtroppo per la candidatura di Lecce a Città della Cultura allo stesso modo potrebbe, io non ci metto tanto di condizionale, ma potrebbe accadere per la politica culturale. Una cosa è l'utilizzo dei contenitori, altra cosa è fare politica culturale partendo appunto dalla conoscenza delle nostre cose e soprattutto dalla valorizzazione secondo me non soltanto dei luoghi, cosa che abbiamo fatto un po' tutti nel tempo ma dalla valorizzazione delle persone, fare degli innesti con persone che vengono da fuori per fare politica culturale a Lecce secondo me non sempre va bene. Io partirei prima dal valorizzare, ripeto, i nostri giovani, le associazioni, i tanti che hanno fatto politica culturale nel tempo, che ci hanno fatto riscoprire tantissime belle cose e senza ovviamente chiudere le porte al resto del mondo perché saremmo davvero degli sciocchi e non faremmo cultura a questo punto.